eccoci salve a tutti come potete vedere non sono solo ma sono felicemente accompagnato da davide biocchi e massimo rea due famosissimi tre dei italiani non hanno bisogno di presentazione anche perché fanno tanta divulgazione proprio in termini di sia trading che investing e quindi sicuramente se mi seguite già probabilmente seguite anche loro nei loro rispettivi canali social e youtube e quant'altro ciao davide ciao massimo ciao vito grazie di averci invitato io ho invitato perché davide se ti ricordi un po di giorni fa abbiamo fatto un video che ha suscitato interesse cercando di descrivere come si formano le bolle perché qui la domanda del momento è proprio questa siamo in bolla visto che abbiamo una tecnologia disruptive come lo fu internet negli anni 2000 che sta cavalcando e sta diciamo mettendo in difficoltà gli analisti nell'andare a valutare le aziende eccetera eccetera abbiamo una cavalcata parabolica che è partita sostanzialmente a fine ottobre gli indici sono andati sui massimi storici anche settori diciamo abbastanza speculativi come alcune alternative coin hanno avuto un forte balzo proprio da fine ottobre quindi abbiamo degli ingredienti che insospettiscono però ci sono altri che invece ci portano magari a dedurre che magari si sta formando una bolla ma le bolle poi chiaramente hanno dei tempi di gestazione anche abbastanza lunghi e lì diciamo la difficoltà poi dell'investitore quindi vorrei fare questo ragionamento con voi perché vi ho chiesto dei dati degli spunti quindi non so cosa ne pensi davide visto che la seconda puntata tra virgolette di questa serie bolla o non bolla senti Vito io sto usando ad alcuni giorni una metafora e qui la spiego anche per la tua community no la racconto spero sia efficace ma mi dicono abbastanza immaginiamoci uno chef stellato no uno di quelli che vanno per la maggiore un cannavacciuolo vista la mia dimensione mi mi assimilano che deve preparare un pranzo luculliano in una location meravigliosa e quindi possiamo immaginare che i preparativi tra scegli il menu ordina gli ordina le cose gli ingredienti vai a prenderti le cose no eh sia una fase molto più lunga di quello che poi sarà preparare il pranzo impiattarlo servirlo e consumarlo no eh e quello che io dico perché dico questo perché tu hai parlato di ingredienti e e io dico che gli ingredienti abbiamo già affrontato no questo tema nel video precedente con te ma gli ingredienti per fare una bolla no eh che nel nostro caso nella nostra metafora è un pranzo luculliano beh gli ingredienti per fare una bolla ci sono tanti già presenti e qualcuno manca ma potrebbe arrivare no per esempio c'è sicuramente l'elemento che come hai detto tu è disruptive nel senso che chi è in grado di capire dove va a impattare veramente l'intelligenza artificiale quello che posso dire è con parole facili che secondo me è disruptive perché noi siamo di fronte per la prima volta a una novità che eh aumenta la produttività per esempio ma che non è solo del settore grow ma impatta anche il settore value che di solito è invece old economy molto old economy e allora noi di fronte a una tecnologia che potrebbe far aumentare la produttività anche nella old economy improvvisamente andiamo a disagio perché quelli sono i posti di lavoro che secondo noi erano alla stregua del posto fisso di checo zalone non so spiegarvi quindi un'intelligenza artificiale che può impattare anche lì veramente ci fa male pensate è molto disruptive no ma questo è anche un ingrediente che sul mercato può accendere la miccia del boosting skyrocketing del sogno americano che diventa realtà dell'ascensore sociale illimitato no che appartiene ai titoli e e questi sono ingredienti come sono ingredienti il fatto che ci siano soldi da investire perché mai puoi fare una bolla se non c'è denaro da metterci e poi ci sono tante altre tematiche che eh come dire sono vanno diciamo così da una serie di concomitanze sino al fatto che rispetto all'altra bolla veramente disruptive che fu internet poi ce ne scurano altre c'è stata quella delle banche nel 2007 2008 c'è stata quella del del green solare no l'energia solare nei primi anni dieci ma eh l'altra veramente disruptive fu internet no e fu disruptive alla stessa maniera figurati che quando banca intesa disse ehi attenzione faremo l'ombanking che oggi è una roba invece più 13% in un giorno un titolo old economy una roba che non si poteva non era né telecom né pagine gialle né tiscali era in banca intesa che faceva il 3 12 13% ora di performance perché aveva detto che facevano l'ombanking figurati un po no ecco siamo a questi livelli ma se dobbiamo tornare alla metafora del pranzo secondo me gli ingredienti ci sono ma non siamo ancora al caffè o alla mazza caffè secondo me a fronte del fatto che molti dicono ma no stiamo mangiando ma magari siamo i primi io proprio insisto nel mio dire che secondo me siamo nel momento in cui come dire mescolate gli ingredienti e fatte le preparazioni eh il nostro amico chef stellato il nostro canavacciuolo sta impiattando quindi si comincerà a mangiare poi il pranzo lo sappiamo è certamente più veloce di tutta la preparazione ma io penso che ci sia ancora e ti dico anche solo uno degli elementi che mi mancano per poter dire bolla una bolla è tale quando dopo avere dato il suo massimo proprio a tal punto che uno non ne può più delle 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 tech di tutto quanto poi si allarga e coinvolge tutto il resto no ecco solo in quel momento lì solo quando vedremo quindi forse in russell che farà questo movimento però devo dire tu mi hai dato uno spunto interessante perché è vero che noi dobbiamo anche arrivare a quello ma tu hai parlato tantissime volte degli animal spirits e io vorrei creare un collegamento con gli animal spirits ma mi serve e poi che tu e poi massimo mi raccontiate qualcosa perché dopo io posso fare un collegamento prima di tutto a te chiedo vito se vuoi raccontare per chi ci segue qui e magari sta venendo qui anche dalla mia community a vederti da quella di massimo e ricordiamo che segnaliamo a tutti di seguire tutti seguite massimo seguite vito dico anche se volete dappertutto iscrivetevi ai nostri canali noi siamo sempre in contatto e cerchiamo sempre di fare formazione di buona qualità vito cosa sono gli animal spirits di keynesiana memoria come dico io sì diciamo che gli animal spirits sono la componente emotiva del mercato quella è un po più irrazionale quella che va a cavalcare prezzi diciamo un po più un po più difficili un po più esuberanti e quella che ignora fondamentalmente i rischi i rischi e quindi quando c'è non c'è più quella gestione del rischio del controllo allora il mercato è dominato dei animal spirits però ci sono animal spirits di vario di vario livello comunque secondo diciamo quando c'è una bolla diciamo che il mercato è ampiamente frequentato da animal spirits possiamo dirla dirla così quando non c'è una bolla gli animal spirits sono un po a cercare qualche altra bolla diciamo in qualche altro mercato perché ci sono sempre senti guarda per integrare la spiegazione degli animal spirits mi viene in mente una cosa che fa anche un po ridere così siamo anche un po gustosi per chi ci segue l'altro giorno cercavo di coniugare di spiegare gli animal spirits durante una live che faccio a lunedì sera insieme a gigi buffon ciccio valenti e e marco casario no sul canale sport foglio altro canale che potreste andare a vedere ogni tanto anche per come dire non metterla giù sempre dura insomma no e parlando degli animal spirits ho cercato poi di chiedere a gigi se nel mondiale del 2006 loro hanno vinto perché c'erano gli animal spirits e lui mi ha detto sì secondo me è quello ci può stare allora gli ho chiesto anche detto beh magari un altro esempio è quando il il bayern vinceva una zero a due minuti dalla fine quella champions league e poi il manchester united gli ha fatto due gol in due minuti dopo il novantesimo e hanno vinto e gigi mi ha detto no quello lì è culo mi ha detto no quello lì non sono animal spirits giusto per capire cos'è animal spirits e cosa non lo è ok allora adesso io voglio sapere allora ma vito se se questi animal spirits no sono così forse massimo può aiutarci a raccontarci perché cioè se c'è qualche animal spirits che eh invece si leva da da wall street eh qualcuno che sta lavorando all'indicatore che caccia ienimo che individua esattamente no perché dico se se c'è qualcuno che a sto tavolo dopo il primo c'ha la pancia piena si può anche alzare lasciar posto a qualcun altro no allora cerchiamo di capire chi è che si alza e se ne va eh massimo sì infatti io mentre voi avete preparato l'antipasto io incomincio a portare le altre portate e vi faccio vedere che ovviamente abbiamo un po' di dati che ci vanno a dare una conferma del vostro discorso che ha ovviamente perfettamente senso cioè vediamo dall'ultimo anno addietro che eh tutti gli insider quindi coloro che detengono e lavoro in un'azienda eh in questo caso oggi vi farò vedere un po' di quelle tech giustamente che sono l'argomento del giorno sono in forte vendita o perlomeno sono in un accesso di direzione standard abbastanza elevata questo che cosa ci dice che ovviamente dopo le salite che abbiamo visto a come ci dice Warren Buffett eh quando tutti sono euforici tu si spaventato quando tutti sono spaventati tu si euforico e quindi gli insider in questo momento stanno portando un po' di profitti a casa possiamo anche andare a vedere cosa stanno portando a casa perché nello specifico possiamo vedere che eh anche le hedge fund stanno portando un po' di soldini a casa soprattutto nell'ultimi cinque giorni faccio vedere il net flow e quindi eh questo grafico da metà da da zero in giù sono coloro che stanno uscendo dalle posizioni da da zero in ovviamente stanno ancora acquistando quella che si nota subito è che le tech sono quelle che le hedge fund stanno maggiormente eh ritirando un po' di liquidità normale ritengo e quindi ci sta che negli ultimi cinque giorni dopo l'ultimo soprattutto dopo la trimestrale di Nvidia che abbiamo seguito tra l'altro insieme a Davide sul mio canale e eh abbiamo visto che c'era giustamente un un eccesso in quel giorno con con un'accelerazione che ha portato poi i mercati a essere un po' più stagnanti quindi in in fase di attesa faccio vedere anche un po' come eh come si stanno muovendo invece nelle grandi tech quindi Nvidia che ha nell'ultimo periodo tutte vendite come possiamo notare no questi sono in la lista delle vendite abbiamo comunque molte shares che sono state vendute faccio notare anche Apple che è stata venduta tra l'altro anche dal dal nostro grande Warren Buffett che ha tolto pochino perché lui avendo centosettanta miliardi ha tolto solo dieci milioni quindi è comunque una fettina piccola però un take profit l'ha fatto e facciamo vedere anche Amazon che abbiamo visto anche diciamo che sta piramidando Warren Buffett sta piramidando esatto e sto facendo la stessa cosa anche io ovviamente e anche Amazon che abbiamo visto che Bezos sta ritirando un po' di soldini anche lui come possiamo vedere un bel po' di shares direi qua ci sono numeri abbastanza elevati di eh 939 938 milioni di azioni quindi anche Bezos ha fatto take profit e non solo anche le hedge fund su Amazon hanno tutti perlomeno per l'ultimo 13f quindi l'ultimo report della trimestre scorso quindi non abbiamo quello attuale ovviamente hanno tutti un po' scaricato posizioni sono poche qua parliamo anche di migliaia di poche migliaia qua è l'unico che ha scaricato un milione e anche Stan Moss ha scaricato un milione però per il resto comunque stanno facendo un po' di take profit nonostante tutto ciò i mercati comunque abbiamo l'S&P che è sempre lì sui massimi e come anche il Nasdaq è sempre lì sui massimi che comunque abbiamo un andamento molto regolare devo dire la verità impulsi e eh ritracciamenti molto ben strutturati non da mercato in eccesso quindi per rispondere alla domanda di eh di Davide se siamo all'antipasto siamo al primo per me siamo siamo seduti a tavola e stiamo aspettando di mangiare l'antipasto comunque siamo lì in procinto di mangiare qualcosina. Io io personalmente credo che se vogliamo fare una un paragone con la bolla della New Economy che è scoppiata al me lo ricordo bene eh il 9 marzo del 2000 quindi me lo ricordo bene tra ottobre 99 e marzo ci fu il semestre pazzo quello il climax finale ehm secondo me non siamo al marzo 2000 ma siamo al 99 volendo fare quella 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 paragone con quella bolla perché è ancora troppo presto eh per perché appunto si 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 crei quel climax eh non non di meno nei giorni scorsi Apple ha dichiarato di eh abbandonare l'auto elettrica per investire per puntare sulla intelligenza artificiale quindi mi verrebbe banalmente strano che siamo già in fase di scoppio della bolla dell'intelligenza artificiale quando dobbiamo ancora capire le carte che su questo macro trend svelerà la seconda azienda più capitalizzata al mondo tra uno degli indizi che mi fanno dire e condividere il vostro ragionamento che siamo eh tra diciamo tra l'antipasto il primo comunque non siamo certo al al desert che però in quel caso sarà sarà molto amaro per chi entrerà ai tempi del desert quindi molta attenzione ma anche io condivido con voi che ci sono tanti indizi che ci dicono che si sta formando una bolla ma non è ancora diciamo nella sua fase più più grande ecco quindi insomma diciamo che se tornassimo alla metafora iniziale no quella del della tavola sai un conto è stare sotto al tavolo dove vicino a te c'hai a destra Buffett e a sinistra Bezos un conto è se eh come dire eh a un certo punto Bezos dice io sono Piero vado via e allora arrivano altri che però non sai chi sono e magari dopo un po' a furia di qualcuno che si alza e qualcuno no e ti ritrovi seduto in compagnia di molte più persone di prima vuol dire che si alzano quelli grossi e e arrivano quelli più piccoli no e e questa cosa a casa mia alla fine si chiama distribuzione ecco forse noi siamo a una fase in cui chissà forse un po' di tecnologia si comincia a distribuire però come ci ha fatto vedere benissimo Massimo si sta cominciando a ruotare a fare la rotazione verso le utilities questo è un processo lento no si vedeva bene mi pare Massimo da questo tuo eh eh come dire grafico questa cosa eh verso quei settori che possono avere ancora da dare e quindi compensare in qualche modo e allora io non vedo per niente dietro l'angolo dei crolli a meno che non avvivino quelle solite come dire quei soliti eventi eh esogeni si dice così no cioè che arrivano da fuori che sono imprevedibili e che potrebbero in quel caso causare anche problematiche notevoli ma che per ora non sono ipotizzabili per quello che è ipotizzabile sul tavolo ora sembra che ci sia il tempo di assistere a questo che è il completamento poi della eh del mercato rialzista pieno quello proprio come dici tu da semestre matto no dove le quotazioni salgono ancora a livelli che uno da solo non ce la può fare andare così al di là cioè solo in gruppo ci si va da stringoli non non ci riesce andare a quell'estremo lì non so questa è la mia opinione poi eh però sono curioso di sentire anche la vostra sì sì Massimo tu quindi sei della stessa idea appunto che ci vorrà del tempo c'è anche perché è una bolla per formarsi in modo pericoloso poi alla fine ha bisogno di tempo cioè non è che si si forma diciamo in pochi mesi c'è una bolla conclamata sì beh come abbiamo parlato anche questa mattina a Marche Briefing da Davide ovviamente ehm si iniziano a vedere le prime pubblicità di cellulari con AI e Samsung ha sviluppato meglio sta cavalcando la prima onda di questa narrativa sono certo che ne arriveranno altri poi ci sono i telegiornali che ci mettono in guardia come facevano con internet quando arrivò internet nel 2000 quindi c'è sempre l'onda che cerca di cavalcare la tecnologia che porterà un'innovazione e l'onda narrativa che invece ci mette in guardia quindi ci sono le carte che sono le stesse e la la ricetta perfetta per comunque andare a creare una bolla dire che siamo già in sviluppo no perché come hai detto gestamente te non sappiamo neanche quale sono ancora le potenzialità che potrebbe darci questo questa innovazione quindi stiamo scoprendo ora abbiamo visto Sora eh sviluppata da OpenAI che è quella tecnologia che ti permette di fare i video partendo da un prompt noi siamo stati abituati adesso a CBT che ci permetteva comunque di dare avere un assistente chiamiamolo così che ci dava eh molte informazioni in merito a a qualsiasi argomento cioè ci sono tante imprecisioni si vede ancora che non è eh non è effettivamente un'intelligenza a tutti gli effetti quindi credo che siamo ancora al principio e poi ci sono due livelli no c'è quello che puoi fare realmente con l'intelligenza artificiale e quello che se chiudi gli occhi puoi sognare di fare ecco quanto più c'è distanza tra queste due cose tanto più si perde diciamo il senso della realtà non pensate Vito? Sì 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 più c'è la componente sogno più entrano gli animal spirits nel mercato che sono poi sognatori quelli che non hanno delle strategie diciamo per per tenere fede eh nel nei momenti di un po' più difficili un po' più in cui il mercato è un po' più pericoloso insomma quando si sottovalutano i rischi ma quindi secondo voi e e poi andiamo a chiudere eh questi si sono queste balene che stanno un po' vendendo in questi in questi giorni in queste settimane stanno ribilanciando il portafoglio perché diciamo è salito tanto e quindi tecnicamente prendono una quota di profitto per mantenere poi la proporzione originale dei loro asset oppure appunto fiutano già la bolla secondo secondo voi ma quello quello azionario non è mai un lazy portfolio ma ma se lo fosse dopo un po' dovresti vendere quello che è cresciuto tanto e comprare quello che ha fatto quindi ci può stare no che che io faccio fuori un po' di tecnologia e bilancio comprando un po' di utilities che è il modo migliore anche per tenere botta perché sappiamo che gli altri sono titoli che sono definite proximity dei bonds c'è anche un motivo per cui ci si può arrivare pensate a questo scenario oggi c'è un 30 per cento dei denari che stanno sui fat fans che è sopra la media ci sono circa sei trilioni nei nei fondi monetari contro una media storica di quattro se due milioni due trillions di dollari escono da lì quei trillions vanno non credo a comprare azioni tendenzialmente quelli vanno a comprare bonds a scadenza più lunga a quel punto però i tutti quelli che cercano rendimento e in realtà a fronte di questi acquisti lo vedono scendere si rivolgono alle proximity dei bonds che sono quei titoli azionari che rendono magari chissà allora più dei bonds in cambio di una volatilità non esageratamente pericolosa no e quindi questo potrebbe far tornare in auge qual è la qual è diciamo la trig per tutto questo il ribasso dei tassi se i tassi ribassano i rendimenti scendono a quel punto certe azioni che peraltro beneficiano di un minor costo del debito come le utilities possono anche tornare interessanti per questo motivo però io suggerirei un'altra cosa se quello che dice massimo è vero quando noi avremo la panda o la clio ai cioè quando sul mercato arriverà questo oggetto sarà maturo di tutto cosa ne pensi vita sì sì esatto quello sarebbe un segnale piuttosto forte come il segnale si può vedere nel mondo per esempio delle criptovalute quando e qui chiedo a massimo in chiusura quando partono delle delle dei token che non hanno senso di esistere e vanno e vanno in parabolico secondo te siamo in quel momento perché probabilmente visto che stiamo parlando di due tecnologie le bolle si sia quella cripto che quella poi dei mercati tradizionali potrebbero confluire in modo armonico nel senso nel loro nel loro climax finale secondo te a che punto siamo anche da quel punto di vista dei mercati nuovi tra virgolette allora per quanto riguarda le cripto a parte abbiamo visto che bitcoin ha toccato in questi giorni 64 mila e ho visto il primo giorno di fomo io in queste giornate dove si è e come è successo tutte le altre volte quando arriva la fomo che abbiamo visto le piattaforme di exchange che si bloccano come coinbase che era andato in stallo e non si vedevano più le gli asset che uno aveva in pancia quindi quello è il primo segnale ma normalissimo a mio avviso quando si è vicino i massimi e tra l'altro bisogna ricordarsi che quando si è sulle cripto siamo su un toro imbizzarrito io ritengo che i mercati siano come un cavallo imbizzarrito e il forex e l'obbligazionario sono un po' un imbizzarrito quindi ricordarsi di che tipo di animale stai cavalcando ti già protegge da poter non essere troppo esposto su un qualcosa di pericoloso o meno. Siamo in una bolla con le cripto? A mio avviso ancora no soprattutto le altcoin sono appena in partenza a mio avviso anzi abbiamo visto una prima un primo impulso da ottobre in poi e ho fatto vedere anche sul mio canale come perché è partito questo impulso e adesso quando bitcoin toccherà le all time high cosa che è sempre successa nel passato ci sarà potenzialmente uno shift in liquidità e potremmo vedere le altcoin potenzialmente performare meglio. Da qui dire che siamo lì già in eccessi ancora no ritengo ancora no come non ritengo che siamo con gli eccessi con l'ondata e ai sul vecchio mercato che è prematuro come ha detto Davide come abbiamo detto penso tutti noi. Benissimo puntata due sulle bolle direi perfetta abbiamo toccato nuovi punti ma secondo me c'è spazio per una terza puntata perché il mese di marzo che comincerà appunto domani sarà un mese insomma particolare dove del resto i mercati non avranno il boost delle trimestrali perché di solito battendo sempre le stime offrono sempre uno sprint allo stesso mercato o un trigger per continuare a salire mentre marzo sarà sarà un po' più difficile forse continuare a salire e allora vedremo se le balene i bezos di turno continueranno a distribuire le loro azioni ai animal spirits che comunque stanno rientrando sul mercato quindi molta attenzione Davide a te i saluti e cosa ci vuoi dire in conclusione? Ma appunto come dicevo quella quel fattore lì cioè di capire quanto poi il nome dell'intelligenza artificiale verrà usato noi ho detto abbiamo parlato del telefono con l'intelligenza artificiale quando arriverà la macchina con l'intelligenza artificiale quando arriveranno l'intelligenza artificiale sarà sulla bocca di tutti e molti si interrogeranno sulla borsa beh a quel punto cioè ci deve essere questa componente di coinvolgimento sono rari i casi in cui la borsa diventa nazionale popolare l'ultima volta forse fu con le tiscali adesso lasciami dire no qui da noi evidentemente e ricorderei un fatto che allora nel 2000 in america si compravano yahoo sisco e intel intel c'è ancora ma non va benissimo sisco c'è ancora ma è sott'acqua nel senso che non va bene ma non è né carne né pesce yahoo è sparita ecco non so quindi quali dei titoli che oggi vanno per la maggiore saranno ancora lì domani amazon c'era ma era una libreria google arrivò nel 2004 facebook del 2012 giusto per capire diciamo che finché come accade ora e meno male nazional popolare il btp valore piuttosto che delle azioni vuol dire che non siamo forse un ulteriore ultimo indizio che non siamo almeno nella stadio finale di un'eventuale bolla e che probabilmente si sta formando e si formerà nei prossimi mesi ragazzi vi aspetto già per una nuova puntata ma vi saluto e se vi sono vi è piaciuto questo video mi raccomando un like e commentate così ci attrezziamo subito per una un nuovo di un nuovo dibattito su questo tema alla prossima grazie davide grazie massimo ciao ciao